troppo forte buga clix e bizzol mk sono tre mk per dirti clix ha fatto la battuta che quasi quasi il prossimo torneo lo gioca da pad perché sennò è troppo facile cioè l'ultimo che hanno fatto hanno vinto di 60 punti no 74 punti precisi due secondi e non gliela facevi mancava nittata una cavalletta ok non vedo un cazzo con sta schifo troppo grossa come andata ora è da sei parti prima c'è un pompa qua sotto se non ce l'hai c'è un pompa qua c'è un pompa qua sotto se non sono ora capisco molte cose terra fuori start comunque ti giuro a volte pare che veramente sia più forte la pistola che la R ah che lo prendo io allora c'è tra gente mi sembra altra non puoi capire quanto è valore giocare la pad se è molto difficile ah stai col pad? si si no con MK si ma ho sempre capace sempre ah beh ormai è l'abitudine cioè alla fine hai giocato per non so quanti anni col pad era più pad che altro è lo stesso discorso che ho fatto io prima c'è più sei più immediato perché conosci ciò che stai usando sei quello che puoi e quello che non puoi fare se c'è con MK quanto pare non hai corriso che è una brutta cosa vabbè almeno non ti potenziali no con loro è tranquillo e non sueto ah si è calmato noi siamo tornati sintatici eh questo si è una persona molto tranquilla belli sti scudi comunque morco duro morto ma tu sai che quanto ci ha messo a ricaricarmi il fosso da un drago eh si abbiamo intuito tieni non è bravo bastare non è bravo bastare mi sono piegati in mano pensavo partissimo non è bravo sto dicendo cazzo va tu cazzo va oh ti parlo alf giù vieni qua arrivo no al botto dicevo ah ok vabbè uguale se rispondo arrivo no i piccoli armi li porto dietro si no comunque vedi che so editare pure io no male ma si basta dirlo così alf dire un altro altro e non gioco più con te oh rispetto a te male no sono serio stavolta dire un altro altro e non gioco più con te no no rispetto a te è fastidio che ti eh ma rispetto a te male rispetto a me stesso meglio di un anno fa ok no meno male si sono rispondo ancora in questo gioco sei chienata dalla porta un 2-3 o che no? qua si stanno dei pesciolini di piccoli arri in giro comunque mi sa che ritorno alla stretch mi sa che mi rimetto alla stretch ma non c'è più la stretch c'è una cosa un pochettino più allungata ma nulla di no ma non puoi capire quanto cazzo si stretcia alf penso dipende anche un po' dal monitor forse no 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 perchè ogni monitor c'è tipo il suo settaggio cioè poi io c'ho il c'ho il 144Hz che praticamente fa 1.750 x 1.080 poi ci sono 2 altri che fanno 1.440 x 1.080 invece altri che tipo fanno già di base 2.400 x 1.200 tipo e poi fanno 1.920 x 1.080 ah ok anche con il mio vado a l'ho fatto a non a cadere 1.080 x 1.080 ah niente di che almeno io te lo lascio là intanto c'ho 2 flopper che fanno la pubblica che i materiali ci vogliono 30 anni per farli cioè ci abbiamo 5 kill 3 io 2 tu e 200 di maz per materiale no io ho 6 4 2 io 2 3 1 ma mi bastano cioè per quello che buildo io mi bastano ne che buildo ne faccio i palazzi ma la pena faccio scalamuro figurati sempre servono i materiali beh dove li uso è quando holdo potendo holdare holdo la li consumo ma qua c'è in teoria l'ex eh? è venuta tutta la voglia di imparare a giocare bene a fort praticamente mhm c'era uno chiaramente tipo era season 4 più o meno mi rompeva il cazzo perchè ah e tanto non si vanno a giocare ti facciamo sempre di un vino su parto a giocare mi dava il cazzo ah e coglione fai schifo così e ci sono messo lì ho chiesto a un suo amico che lui neanche lo sapeva che io l'avevo chiesto a lui e tipo ho dato un piccolo un momento mi sono buttato un attimo ho le splash eh? invece sai io perchè voglio imparare a giocare un po' meglio che a me questo gioco piace molto è uno di quei giochi che mi sveglio la mattina con la voglia di andarci a giocare di conseguenza voglio fare qualcosa di decente non dico di essere il più forte del mondo però che mi sembra un minimo decente infatti la scorsa stagione che vincevo tante partite in singolo ero troppo contento non immagino di quanto poi questa boh non sarà però tutto sto loot e non c'è gente non c'è gente invece stralla c'è gente eh infatti eccoli la ma non c'è gente ma non c'è ma è un po' non c'è ma è un po' che è un po' questo va droppato pure buga lo usa però quando arriva l'endgame il primo che ammazza e c'è un pompa con un tac verde lo cambio l'ho visto proprio ieri ieri stavano un po' trollando bellamente ma è un po' ma è un po' che è un po' Sì, ma quando c'è il teletrasporto te voglio littarlo Pure lui Non dobbiamo andargli contro, lui è molto cuori safe C'è vai da solo perché non ho un moment, arrivo Arrivo Ah, l'hai ucciso? Io ancora adesso stavo arrivando Ma nel stesso gioco senza movement veramente sei tipo troppo lento Il mio dito Eh, ok, mi sta arrivando la safe Posso? Certo, certo, ci avvisavo soltanto Con la prestazione non la vedi La safe con la prestazione la vedi molto poco No, vedo meglio chi sta dentro la safe Sì, ma non vedi la safe in sé No, quella se la vedo No, non lo dai pochi Dunque poi al massimo se vado a rivedere dei set Se non la vedi io ho dei settings da qualche parte nascosti Che puoi mettere Che te la fa vedere meglio 31 blu 31 blu ancora craccato 33 33 Craccato 32 Hai terra Un amico Sì, vabbè È arrivato Nostro geppetto Madonna Che sberla Eeeh Un occhio di pompa c'ha questo Domi di che c'è il doppio pompa del drago Sì, c'è il doppio pompa del drago Sto stronzo Morto No, non era lo C'era il pompa esotico più il pompa Doppio, doppio ce n'aveva Mamma che bastardo C'è del cazzo Se vuoi il tacone sta qua Eeeh C'ho di scudenti Tieni troppo pure due Da teni in inventario qua Come puoi far roncare i cosi due? Ah, ma era l'ultimo Eeeh Sì Vabbè Che dire Quando mangiare? Io sì Eeeh 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 Eeeh